Potrà diventare un modello per tutti i comuni della BAT l'ordinanza per la vendita di prodotti ortofrutticoli che il comune di Andria si appresta a varare dopo l'accordo raggiunto ieri tra le associazioni dei commercianti e sindacali, l'ASL BAT e l'amministrazione comunale. Volevo ringraziare, approfitto anche del mezzo televisivo, tutti quanti i protagonisti di questa vicenda, anche la ASL in persona del dottor Magarelli e della dottoressa Matera che si sono impegnati ad esportare il modello Andria avendo una competenza provinciale la nostra ASL anche negli altri comuni perché questo protocollo deve essere poi il viatico per una disciplina organica che riguarda tutta quanta la BAT. Sono regole condivise e utili per svolgere la vendita di questi prodotti nel rispetto di norme di salubrità e sicurezza alimentare e che tendono a fermare la vendita abusiva di ortofrutta. Su quest'ultimo punto l'applicazione delle regole dovrà essere, ferrea ribadisce l'assessore alle attività commerciali, Pierpaolo Matera. I stazionamenti presso incroci o altre strade della città non potranno più avvenire e addirittura la legge prevede che in questi casi, neanche nell'ipotesi di reiterazione delle violazioni, in questi casi è addirittura possibile sia il sequestro della merce e del mezzo finalizzato alla confisca. Per i commercianti regolari pochi ma utili accorgimenti per evitare di aumentare i fattori di rischio sulla salubrità degli alimenti. Per gli operatori a sede fissa le criticità rinvengono soprattutto dal fatto che l'esposizione deve avvenire in spazi che siano autorizzati e poi la prescrizione che elimina il rischio che prodotti possano essere inquinati da polveri rinvenienti dal traffico veicolare. Con la ASL è stato convenuto che l'esposizione può riguardare soltanto prodotti a buccia spessa, ad esempio banane, agrumi e quant'altro. Invece per i prodotti orticoli di qualsiasi natura devono essere posti all'interno. Un lavoro che ha messo d'accordo tutti. Finalmente, devo dire, dopo tanto chiacchiericcio abbiamo raggiunto un accordo che è un risultato importantissimo, credo non solo per Andrea ma per tutti i comuni della BAT. Sono fiero, lo devo dire, ed orgoglioso insieme anche all'assessore del giudice che è stato con me di aver riunito intorno ad un tavolo le organizzazioni sindacali di categoria, i consumatori, le associazioni ambientaliste e abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa che finalmente dà delle regole certe.